Ciao carissimi, bentrovati. È sempre una grande gioia poter pregare insieme il Santo Rosario e vedere così tanti giovani collegati. Sono contento che stasera abbiamo un po' rivissuto le emozioni della giornata mondiale della gioventù del 1995 a Manila, dove il Papa Giovanni Paolo II ci ha esortati con quella parola del Vangelo dove Gesù dice come il Padre ha mandato me, io mando voi. È proprio sulla testimonianza, sulla testimonianza della fede e dell'annuncio il tema di quella giornata mondiale della gioventù. Come fioretto da poter vivere insieme allora questa sera mi viene così da proporvi questo esercizio. Proviamo a pensare chi è stato per la prima volta ad annunciarci il Vangelo, o meglio quali sono quelle persone che ci hanno portato a Dio. Ad alcuni verranno in mente i genitori, i nonni, un educatore, una catechista. Ecco, possono essere tante le persone che ci vengono in mente. E nel ringraziare chi ci ha portati a Dio vogliamo fare un secondo passo questa sera. Essere noi testimoni e annunciatori del Vangelo agli altri. Puoi raccontare allora un'esperienza della tua vita vissuta nella fede a qualcuno che ti è vicino, proprio per essere testimoni dell'opera che Dio ha fatto nella tua vita. Un saluto e buona serata a tutti.